Un caro saluto a tutti gli amici della Siagascot. Colgo con estremo piacere l'invito di Massimo Berruto a partecipare a questa bella iniziativa che trovo perfettamente coerente e probabilmente sarà una metodica sempre più utilizzata in futuro per la comunicazione. Lo scorso anno, nel 2019 a Las Vegas, in occasione dell'American Academy, abbiamo presentato la nostra esperienza sul trattamento del primo episodio di lussazione glenomerale. Non abbiamo conflitti di interesse. Ed è l'occasione per presentare quello che è stato il lavoro del Sant'Andrea, il nostro ospedale che nasce nel 2001 come costola separata dalla Clinica Ortopedica dell'Università di Roma La Sapienza e che è diventata la seconda facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università di Roma. Nel corso di pochi anni abbiamo aperto il pronto soccorso nel 2005 e ci siamo trovati con il professor Ferretti, che è il responsabile dell'unità complessa di ortopedia, ad affrontare il trattamento di varie lesioni. Care alla scuola del professor Perugia sono ovviamente il trattamento delle lesioni del crociato anteriore, le lussazioni di spalla e quindi abbiamo stilato dei protocolli prospettici, in questo caso, in questo lavoro, un prospettico non randomizzato, che prevede un percorso preferenziale per il trattamento di alcune patologie e nel corso di dieci anni abbiamo superato i 60.000 accessi all'anno. Quello che all'epoca sapevamo del trattamento del primo episodio è che nella gran parte dei casi, quando un paziente giunge all'osservazione al di sotto dei 25 anni, la spalla ha una elevata probabilità di recidiva, come ci dice Ovelius nei suoi lavori a distanza di lungo termine. Bob Arsiero e Alexander Kirkley ci avevano già dimostrato in quegli anni che il trattamento chirurgico è possibile e fornisce buoni risultati. Eiji Itoi portava avanti durante quegli anni un discorso di trattamento con uno sling in extra rotazione per consentire un migliore accollamento dei tessuti e ipoteticamente migliori risultati, cosa che poi negli anni successivi non si è rivelata condivisa dalla maggior parte degli ortopedici. Noi inizialmente abbiamo provato a trattare i nostri pazienti in questo modo, ma abbiamo subito dovuto scoprire che i pazienti italiani sono probabilmente non così tranquilli come i giapponesi, proprio perché i primi due della casistica che sono stati poi tolti dal gruppo non tolleravano bene il trattamento con il tutore in extra rotazione e quindi non davano poi garanzie nel futuro per l'omogeneità della casistica. E quindi abbiamo usato sempre un trattamento conservativo con tutori in intra rotazione. Nel caso in cui si presenti un primo episodio di russazione nel nostro ospedale, sappiamo che noi dobbiamo effettuare una radiografia e la riduzione. Successivamente il paziente, se ha meno di 25 anni, viene indirizzato a una risonanza magnetica che si effettua in maniera molto precoce entro i primi due o tre giorni dal trauma. Se la risonanza magnetica mostra una lesione di Bankart, il paziente viene inserito nello studio e quindi trattamento conservativo o trattamento chirurgico attraverso il suo consenso informato. Se la lesione non c'è in risonanza, il paziente viene escluso, come pure i pazienti sopra i 25 anni non sono stati considerati in questo studio. Nel corso di questi anni abbiamo osservato 642 pazienti giunti con un primo episodio di russazione, dei quali 212 avevano meno di 25 anni e 130 rispondevano ai criteri di inclusione e sono stati poi successivamente suddivisi in due gruppi. Il gruppo trattato chirurgicamente di 60 pazienti e il gruppo trattato conservativamente di 70. I criteri di esclusione riguardavano l'assenza di fratture glenoidee o della tuberosità omerale, lesioni neurologiche, precedente chirurgia, instabilità multidirezionale o episodi di sublussazione. Il trattamento del gruppo chirurgico è stato sempre effettuato entro le prime tre settimane dal trauma acuto e in tutti i pazienti era presente una lesione del cerci nel capsulo labbrale anteriore e il tutore è stato indossato per quattro settimane e il ritorno allo sport è previsto dal quarto al quinto mese. Nel gruppo conservativo, quattro settimane anche qui di tutore, tutti con risonanza magnetica e lesione di Bancart, ritorno fisioterapico e sport a tre mesi. I reperti della casistica del gruppo operatorio prevedono un follow-up di 82 mesi medio con un'età di 22,8 anni, 58 pazienti quasi tutti maschi e ancore metalliche utilizzate per l'intervento che sono state una media di 2,8. Attualmente utilizziamo le whole suture anchor. Nel 100%, quindi in tutti i casi, erano presenti come conferma del reperto della risonanza una lesione labbrale e nel 33% dei casi abbiamo valutato utile un ritenzionamento della banda posteriore del legamento glenomerale inferiore. La lesione della cuffia era assente in tutta la casistica. Mentre nel 30% dei casi abbiamo osservato una slap lesions, accessoria, oltre alla lesione di Bancart, estesa posteriormente. Erano presenti due corpi liberi, frammenti osteocondrali distaccati dalla testa dell'omero, che era interessata nel 100%, in tutti i casi, dalla lesione di Il-Sax e in due casi aveva una variante anatomica, la presenza della lesione del cercine anteriore, con una variante di Buford e un forame sublabbrale. Nei risultati vediamo quelli che sono i più importanti. A 10 anni di distanza di follow-up dei due gruppi, questo è il dato più evidente, 13,3% del gruppo operatorio hanno avuto una recidiva, mentre il 71,4% hanno avuto una recidiva quando non operati nel gruppo B. E il ritorno allo sport, anche se ha previsto un ritorno piuttosto elevato di tutti a una certa attività sportiva, nel gruppo operatorio il 70% avevano raggiunto il livello sportivo antecedente al trauma, mentre solo il 41% lo raggiungeva se non era stato operato. Tutte le scale di valutazione dalla ROWE, la WOSI, la ASES score e il DASH score sono stati significativamente positivi per 5 e 10 anni di follow-up nel gruppo chirurgico rispetto al gruppo conservativo, a testimoniare un miglior recupero funzionale dei pazienti operati. I pazienti operati hanno altresì mostrato un minor tasso di modificazioni degenerative in senso artrosico. In pochi pazienti nel gruppo B conservativo c'è stato lo sviluppo di una certa artrosi, mentre invece il fenomeno è stato più moderato nel gruppo chirurgico. L'applicazione di ancore metalliche in realtà ci ha anche consentito di studiare bene le eventuali mobilizzazioni che non sono state presenti nei pazienti valutati, come pure il posizionamento corretto delle ancore per la sutura. In un solo caso era presente un posizionamento proud delle ancore glenoidee e il paziente che stava bene non ha voluto essere sottoposto a un intervento di revisione. La maggior parte degli autori in letteratura è concorde nell'affermare che nel trattamento incruento il tasso medio di recidiva è piuttosto elevato. Andiamo da percentuali che oscillano tra il 60 e oltre il 90%. È vero anche che nel corso degli anni il trattamento chirurgico ha subito dei miglioramenti tecnici e quindi l'introduzione di differenti materiali, di ancorine sempre migliori da un punto di vista della tenuta biomeccanica ha consentito un miglioramento progressivo dei risultati. Però se andiamo a leggere attentamente tutti questi lavori sono tutti gravati dall'avere un follow-up piuttosto breve. E ha fatto quindi chiarezza nella review sistematica della letteratura è il gruppo italiano che ha definito questo intervento utile quando si tratta di un giovane adulto che sia impegnato in attività high demanding o sport attività piuttosto impegnative. Ma già Bob Arsiero aveva definito come già dieci anni fa probabilmente lo standard del trattamento del primo episodio sarebbe dovuto cambiare nel futuro. e tanto che un gruppo inglese aveva dato questa bella definizione di come raramente nella storia dell'ortopedia la chirurgia fosse drammaticamente cambiata nel corso di poco tempo nell'approccio ad un determinato problema. Sono stati fatti anche dei calcoli economici sul rapporto costo-beneficio di questo tipo di intervento e si è visto che proprio l'età di 25 anni e il sesso maschile rappresentano il limite utile per effettuare questo tipo di trattamento chirurgico. Con l'esperienza maturata dopo tanti anni di approccio a questa chirurgia noi possiamo senz'altro definire che si cambia la storia naturale del problema perché noi siamo passati dal 13,30% di recidive nel gruppo trattato chirurgicamente a un 71,42% di pazienti che non trattati chirurgicamente avevano rilussato la spalla nel gruppo B. ma soprattutto è interessante vedere come nel corso degli anni noi fino a 5-6 anni dopo il trattamento iniziale abbiamo una possibilità di una recidiva della rilussazione glenomerale quindi non possiamo prendere in considerazione lavori con follow-up a breve termine. Nel corso degli ultimi anni sicuramente sono stati fatti molti passi avanti sulle conoscenze per quello che riguarda le lesioni associate della spalla e quindi abbiamo visto quanto conta una perdita ossea glenoidea o omerale come è importante la consistenza della capsula dei legamenti del labbro e possa concomitare in qualche caso un disturbo della cuffia dei rotatori ma tutti questi aspetti che sono in qualche modo associati come fattori di rischio che comportano un aumento della possibilità di recidiva secondo il mio avviso abbiamo noi un momento particolarmente utile e importante nelle prime tre settimane dopo la lesione glenomerale perché i tessuti sono freschi e quindi il semplice gesto di un intervento mininvasivo come un'artroscopia di spalla nell'affrontare i margini favorendo la guarigione degli stessi può in qualche modo prevenire lo sviluppo di ulteriori peggioramenti di questi aspetti che possono favorire la recidiva e quindi ridurre in qualche modo le complicanze future e quindi possiamo affermare che quando siamo davanti a un ragazzo di sesso maschile prevalentemente al di sotto dei 25 anni con un'attività sportiva piuttosto impegnativa e che abbia la presenza di un distacco capsulolabrale i risultati sono peggiori se lo lasciamo con un trattamento incruento perché il trattamento chirurgico del primo episodio è una procedura sicura ed efficace e può innanzitutto ridurre in maniera importante il tasso di recidiva ci consente di osservare e trattare in maniera concomitante le lesioni associate può fornire dei risultati che danno un miglior incremento del recupero funzionale e possono consentire un ritorno completo all'attività sportiva per quelli che volessero approfondire il discorso abbiamo pubblicato alla fine del 2019 su International Orthopedics questo nostro lavoro per cui ringrazio anche tutti i collaboratori che hanno partecipato in questi lunghi anni nell'analisi dei pazienti e i risultati preliminari che erano stati portati nel 2014 a New Orleans avevano avuto un bel riconoscimento come game changer cioè come un trattamento che avrebbe potuto poi influire sulle scelte future nell'ortopedia ed era stato ritrasmesso in tutte le scuole di specializzazione americane nell'Academy di New Orleans proprio come le migliori 14 presentazioni colgo l'occasione per fare un caldo saluto un abbraccio forte a tutti i colleghi soprattutto del nord che sono stati in questo periodo sottoposti a un maggiore stress ambientale lavorativo sappiamo tutti quello che abbiamo passato e un forte abbraccio a tutti e speriamo di rivederci al più presto in maniera collegiale in un bel congresso arrivederci e grazie